Presidente, una giornata speciale ed emozionante, perché poi la Fondazione Tercas si mette accanto e prende per mano tanti bambini di tanti istituti scolastici. Sì, allora vorrei che fosse chiaro, prendiamo per mano sicuramente questi bimbi disabili che hanno un percorso per qualche verso più difficoltoso degli altri, ma che io amo definire bimbi speciali. Sono come i colori, sono come le nostre propensioni, sono diversi nelle loro attitudini, nelle loro capacità, ma non hanno un valore inferiore. E vorrei fosse chiaro che noi oggi non premiamo soltanto i loro compagni di scuola che durante la didattica a distanza si sono adoperati su base volontaria per continuare ad essere al loro fianco. Noi premiamo anche i ragazzi disabili per quello che hanno dato ai loro compagni. Nel rapporto di affiancamento a questi ragazzi non c'è un dare dei forti ad un fragile, c'è uno scambio, un dare reciproco che poi è la base di tutti i rapporti che noi definiamo magari di volontariato. Si ricostituisce con l'integrazione un'unità e nell'unità il pezzo che manca non è quello che vale di più o che vale di meno, perché il valore è nell'unità e quindi tutti hanno lo stesso valore, tutti hanno la stessa dignità, tutti meritano lo stesso rispetto e soprattutto tutti sono ugualmente una risorsa per la nostra società. Questa la Fondazione Tercas si conferma con i suoi riflettori accesi sui temi del sociale. Assolutamente, è la cosa che ci preme di più. Ci rendiamo conto di non poter arrivare a essere profondamente incisivi su tutte le realtà, ma noi vogliamo in qualche modo tracciare un cammino, indicare una strada, sperando di non essere presuntuosi, ma lo facciamo con i nostri stakeholder, con i nostri organi, ascoltando il più possibile le associazioni per comprendere quali sono le esigenze del territorio. Sempre di più ci apriamo ad una progettazione partecipata, che vuol dire ascoltare l'altro per potergli dare quello di cui realmente sente il bisogno e non quello che noi crediamo debba essere donato, perché anche questa è una forma in qualche modo di prevaricazione. Voler dare quello che noi riteniamo sia utile. Ecco, l'ascolto. L'ascolto è la creazione della rete tra i vari attori del territorio. Secondo me è la svolta principale che dobbiamo dare in questa nostra ripartenza.